in occasione del 25 aprile leggo di pierpaolo pasolini la resistenza e la sua luce questo testo si trova in tutte le poesie al volume primo la resistenza e la sua luce così giunsi ai giorni della resistenza senza saperne nulla se non lo stile fu stile tutta luce memorabile coscienza di sole non pote mai sfiorire neanche per un istante neanche quando l'europa tremò nella più morta vigilia fuggimmo con le masserizie su un carro da casarsa un villaggio perduto tra roggio e viti ed era pura luce mio fratello partì in un mattino muto di marzo su un treno clandestino la pistola in un libro ed era pura luce visse a lungo sui monti che albeggiavano quasi paradisiaci nel tetro azzurrino del piano friulano ed era pura luce nella soffitta del casolare mia madre guardava sempre perdutamente quei monti già conscia del destino ed era pura luce coi pochi contadini intorno viveva una gloriosa vita di perseguitato dagli atroci editti ed era pura luce venne il giorno della morte e della libertà il mondo martoriato si riconobbe nuovo nella luce quella luce era speranza di giustizia non sapevo quale la giustizia la luce sempre uguale ad altra luce poi variò da luce diventò in certa alba un'alba che cresceva si allargava sopra i campi friulani sulle rogge illuminava i braccianti che lottavano così l'alba nascente fu una luce fuori dall'eternità dello stile nella storia la giustizia fu coscienza ad un'umana divisione di ricchezza e la speranza ebbe nuova luce